10 funzionali della città metropolitana indagati per falso. La procura di Genova ha iscritto 10 persone nel registro degli indagati tra i funzionali pubblici dell'ex provincia per presunti illeciti nella gestione del bilancio. Il reato ipotizzato è falso in atto pubblico. L'indagine riguarda i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2018 ed è nata in seguito ad un esposto presentato nel 2019 dal sindaco di Genova, Marco Bucci, alla Corte dei Conti. Avrebbero fatto risultare il bilancio della ex provincia di Genova e poi di città metropolitana inattivo quando non lo era. Per questo 10 funzionari tecnici della funzione bilancio sono stati indagati per falso ideologico dalla procura di Genova. L'inchiesta nasce dopo un esposto presentato dal sindaco metropolitano Marco Bucci alla Corte dei Conti. I giudici contabili hanno poi trasmesso gli atti ai pubblici ministeri che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. Nel Merino sono finiti i bilanci dal 2014 al 2018. Al centro dell'inchiesta dei PM della Guardia di Finanza ci sarebbero le aliquote delle imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In pratica, secondo l'ipotesi accusatoria, queste imposte sarebbero state messe a bilancio in base al valore teorico dell'introito, basandosi sul numero dei veicoli matricolati in tutta la provincia di Genova e non in base ai veicoli realmente assicurati. In questa maniera il bilancio sarebbe così risultato inattivo e non in passivo. Dopo la trasmissione degli atti dalla Corte dei Conti in Procura era stato aperto un fascicolo e Bucci era stato sentito a novembre per due ore come testimone. Il sindaco aveva portato una cartellina con tutta la documentazione che aveva usato per preparare l'esposto. In questi giorni sono arrivati i primi avvisi di garanzia con l'invito a comparire per essere interrogati. I primi dirigenti sono stati sentiti nelle scorse settimane mentre altri si presenteranno al nono piano di Palazzo di Giustizia nei prossimi giorni. Un quartier con oltre 1000 bambini ha percorso le vie del centro di Sestri Levante dando il via all'Andersen Festival che durerà fino al 18 giugno con oltre 100 appuntamenti per grandi e bambini. Accompagnati dalla musica della banda cittadina i bambini ed i loro insegnanti hanno raggiunto l'arena conchiglia accompagnati dai giocoglieri e funamboli. In testa è il neosindaco Francesco Solinas nella sua prima uscita pubblica accompagnato da Stefano Chioggia, direttore protempore di Mediaterraneo Servizi partecipata del Comune. Sul sito internet del Comune di Sestri Levante tutti gli orari di spettacoli in programma da oggi fino a domenica 18 giugno. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata l'impugnazione della nuova perimetrazione tra gli altri del Parco Naturale Regionale dell'Aveto con l'esclusione di alcune aree protette. Lo annuncia in una nota il Vice Presidente di Regione Liguria con Delega ai Parchi Alessandro Piana. È una sentenza importante quella della Corte Costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oggi in merito alla lunga querelle sui parchi e sulla tutela paesaggistica, spiega Piana. Nata da ricorso promosso alla Presidente del Consiglio del settembre 2022, il giudizio di legittimità costituzionale fa luce sul corretto operato di Regione Liguria, dice ancora Piana, che non si è sostituita la podestà statale ma ha esercitato il suo dovere di esplicare la competenza regionale di determinazione delle aree da qualificare e tutelare. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato non fondata l'impugnazione della nuova perimetrazione dei parchi naturali e regionali delle Alpi Liguri, tra cui quello dell'Aveto, con esclusione di alcune aree protette. Non c'è conflitto nella pianificazione paesaggistica e non si è determinata una riduzione della tutela paesaggistica. Anzi, l'obiettivo della modifica dei confini dei parchi è quello di renderli maggiormente rispondenti alle istanze delle comunità locali e meglio finalizzati sulle attività di educazione, di ricerca e di fruizione. La perimetrazione regionale dei parchi in questione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, rimane pertanto quella introdotta con la regge regionale. 15 luglio 2022, numero 7, conclude il Vicepresidente. Il centro di raccolta di Via dell'Anè a Recco si rifà completamente, Luc. A renderlo più grazioso agli occhi saranno gli studenti del liceo artistico Clim Barabino. L'amministrazione comunale ha infatti approvato la proposta in tal senso arrivata dall'Istituto. Gli studenti si occuperanno di riqualificare una parte del muro in cemento armato della struttura con pannelli esplicativi dei diversi servizi offerti ed alcune opere bi-tridimensionali, grafico-pittoriche e plastiche. In futuro il Comune di Recco potrebbe anche organizzare una mostra con i lavori degli studenti. Il progetto, dicono il sindaco Carlo Gandolfo, l'assessore comunale all'ambiente di Vigio Fannin, risponde alle nostre necessità sia in termini di miglioramento estetico dell'aria sia in termini di attività di sensibilizzazione della popolazione alla sostenibilità ambientale e inoltre utile agli studenti coinvolti per l'acquisizione di specifiche competenze. Tornano le auto, le moto e i seed car d'epoca a Chiavari. L'appuntamento con Glamour, manifestazione della sua terza edizione, è fissata per domenica 18 giugno a partire dalle 8.30 in Piazza Matteotti. La caravana storica alle 11 attraverserà le vie di Chiavari per poi rientrare in Piazza Matteotti attorno alle 13. Inizierà dunque alle 16 invece il Red Carpet, nel corso del quale sarà presentato ogni singolo veicolo e l'amministrazione comunale premerà gli equipaggi. L'evento è organizzato dal Tiguglia Motor Club in collaborazione con Palazzo Bianco. Si svolgerà in concomitanza con Chiavari Vintage, manifestazione in programma invece il 17 ma anche il 18 giugno. Tornano lo zucchino d'oro, le date dello spettacolo sono domani e dopodomani, venerdì 9 e sabato 10 giugno presso il teatrino di Moleoni di Cicagna. Il coro è formato da 43 bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, provenienti da tutta la Fontana Buona ed intorni. Qualcuno viene anche da Chiavari e Lavagna. Quest'anno il tema sarà il fondale marino. Il comitato sta collaborando e coinvolgendo le scuole del comprensorio per la realizzazione della scenografia stessa. Molte le canzoni in gara, la canzone vincitrice, verrà decretata nella serata della finale, cioè il 10 giugno, dalla giuria d'eccezione. In tal luogo verrà premiato l'autore o gli autori della canzone vincitrice. Nella stessa serata saranno poi premiati tutti gli autori che hanno partecipato donando una canzone, testo o musica. Gli autori quest'anno provengono non solo dal Tiguglio, ma anche da altre parti d'Italia. Si giocherà allo stadio comunale di Piancastagnaio, in provincia di Siena, la finale per il titolo di campione d'Italia dilettanti tra Sestri, Levante e Sorrento. La gara è in programma domenica 11 giugno alle ore 16. In caso di parità nei 90 minuti si calceranno i rigori per decidere la squadra che vincerà lo scudetto dei dilettanti. Gli italiani si possono acquistare online sul sito internet www.go2.it al prezzo di 8 euro più i diritti di prelazione oppure recandosi all'Alexander Cafè in via nazionale 556 Sestri, Levante, a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 9 giugno. Non verrà eseguita la vendita dei biglietti presso lo stadio di Piancastagnaio. a Iutras Corsari sarà riservata la tribuna laterale dei locali. È stata una stagione lunga, bella, 21 vittorie su 22 partite di campionato, la serie di play-off con l'Olympic Roma, la vittoria in gara 1 con la Florenzia, la sconfitta a Firenze e poi tutto qua. In una notte alla Giuba Baldini davanti a mille spettatori che hanno cantato dal primo all'ultimo secondo, una grande partenza, il ritorno della Florenzia che dopo una estenuante rimonta è arrivata anche in vantaggio 10 a 9 in un momento più complicato. Nel quarto tempo è uscito fuori quello che viene chiamato semplicemente il vecchio cuore bianconero. La squadra si è ribellata alla sconfitta e dopo dieci anni torna meritatamente in Serie A 1. Le interviste del post partita al presidente Massimo Bozzo, al capitano Andrea Beggiato e all'allenatore Angelo Temellini nel nostro servizio. Presidente, alla fine Serie A, forse nel modo più bello a gara 3, una parita sofferta che a un certo punto sembrava quasi potesse scappare via invece il camogli da squadra l'ha ripresa nell'ultimo tempo. Si dice che le cose guadagnate così sono le più belle. Io per via devo vincere in altra maniera, ma comunque la prendiamo così e devo dare onore alla Florenza che è stata un'avversaria degna e ci ha inserito, come dicevi te, in un certo momento abbiamo avuto quasi paura di non farcela. Però l'orgoglio, l'annamento e la calma dei ragazzi l'hanno tirata fuori e è finita bene. Se pensi a questi ultimi dieci anni, tu sei uno che ha sempre fatto il passo giusto, mai più lungo della gamba. Quest'anno però l'avevi detto, alziamo l'asticella, ci proviamo davvero, vogliamo salire. È il coronamento di un anno di lavoro importante, ma direi di dieci anni di lavoro importanti. La grossa difficoltà è stata proprio questa, nel senso che quest'anno avevamo deciso di provarci tutti i costi e essere favoriti e ad Italia favoriti da tutto, alla lunga non è facile portare avanti. Quindi ci aspettavano tutti, i play-off sono i play-off, è sempre difficile. Comunque è andata come è andata, sono contentissimo e anzi, pur essendo sofferta, è stata meravigliosa. Chiedo a chi la dedichi questa promozione, visto che è anche frutto di tanti sacrifici che hai fatto e di tante giornate di lavoro. Guarda, sinceramente alla mia famiglia e al gruppo di ragazzi che stanno tirando su questa società, ritirando su la società che ha avuto anni di appannamento, ma adesso lentamente, perché non abbiamo grosse potenzialità, ma lentamente cerchiamo di riportarla ai vecchi allori. Chiaramente la 1 è già un traguardo, adesso il prossimo traguardo sarà quello di salvarci e per noi sarà come vincere uno scudetto, sperando che succeda.